due una decida o fa qu, fa qu, fa qu fa pesante e' una mandaglia su ragazzo del bambino e' una mandaglia su ragazzo del bambino e' una mandaglia su ragazzo del bambino l'iscrivole ottobre 2007 ma penso all'ora di interno di rimanere si, si, tutto allora decidiamo, che ne devo dire? a Italo, a Italo 1, 2, 3 mappa cia del bambino no, basta tu ci fai l'olta no, no, no si, se ne fai in serio, in serio artripo a Italo mappa cia del bambino per me se ne piace più per me non è un'analisi a me è barricato